Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con voi perché vorrei parlare dei saldi. Questo fantomatico periodo dell'anno... Ce ne sono due forse nell'anno, ma insomma, ma zeccole, ma zeccole, non stiamo a parlare di questo in questo momento. Questo fantomatico periodo dell'anno che, a quanto pare, dovrebbe portare tutta la popolazione maschile e femminile del mondo ad acquistare. Ad acquistare cosa? Dipende, ad esempio, io che vado matta per le cose di casa, è tipo le padelle, le ciotole, i piatti, i bicchieri, oppure non lo so. Vai all'Ikea e acquisti quel fantomatico Malm da mettere in camera, da letto, il comodino, che però costava 80, non lo volevi pagare 80, quindi io paghi 40, insomma, stai i saldi qui. Oppure i saldi che comprendono tutto l'abbigliamento, no? L'abbigliamento. Ma perché mi ritrovo a fare questo video? Io mi ritrovo a fare questo video perché un paio di giorni fa sono andata in giro per Milano, per caso, perché non mi ero assolutamente prefissata di comprare niente con i saldi. Entro sempre, per purissimo caso, all'interno di uno dei negozi di queste grandissime aziende internazionali d'abbigliamento, che in questo video chiameremo con il nome fittizio di Bara. Ecco, sono entrata da Bara e sono rimasta piuttosto sconvolt quiz. Mi spiego un po' meglio. Allora, io entro all'interno del negozio e mi ritrovo, ovviamente, come al solito, come in tutti, tutti i negozi del mondo durante la stagione dei saldi, un angolo, un angolo, angolo, con su scritto 50%, 30% ed è lì che mi vado a propinarmi, a propinquarmi, perché volevo vedere se trovavo ipoteticamente qualcosa di un po' scontato. Ora, non dico al 50%, al 70%, va bene anche al 10%, così almeno dico che ho comprato qualcosa con i saldi, no? Arrivo davanti alle grucci e dico, toh, vada bellino questo completino, questa tutina con i bottoncini, mi sembra veramente molto molto carina. Fammi vedere se c'è la taglia. Bam bam bam! Questa, lo saprete, lo saprete amici, è la domanda clou dei saldi. Fammi vedere se c'è la mia taglia, perché la tua taglia non ci sarà mai. Ma attenzione, la tua taglia non ci sarà mai, ma mai, 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 se hai una taglia superiore alla medium. Ora, io non ce l'ho con tutte le ragazze, io parlo delle ragazze perché sono una ragazza, ma questa cosa probabilmente vale anche per gli uomini, che hanno una small, un extra small. Ragazzi, buon per voi, siete delle ragazze minute, siete le classiche ballerine della scala, io vi adoro e vi invidio da 28 anni a questa parte, ma non è questo il mio caso. Il mio caso è di una ragazza alta 1,78 m con un bel culetto, cioè un bel culetto, non intendo che c'ho un bel culo, intendo che c'ho una cosa abbastanza, cioè, anzi, forse il culo manco tanto, i fianchi, i fianchi, e mette tutti i chili di troppo sparsi per tutto il corpo, quindi non è che io li metto sulla gamba, sulla pancia, li metto un po' da tutte le parti, anche sulle braccia, sulla pappagorgia, ovunque. Dove voglio andare a parare? Voglio farvi capire che quella tutina con i bottoncini non c'era della mia taglia, non c'era. Bah, Alice, cosa ti aspettavi? Non mi aspettavo niente, infatti ho detto, eh vabbè, non c'è la mia taglia. Passo oltre, vado avanti di 30 cm in questo angoletto con i saldi, perché ricordiamo che Bara probabilmente è a 300 m2 di negozio, ma ricordiamo che se tu sei povera e vuoi acquistare le cose con i saldi, tu devi andare là, proprio nel reparto dei poracci, dove tutti possono vedere che tu stai acquistando con i saldi, capito? Sia chiaro, mettiamo in evidenza questa cosa. Passo quindi alla gruccia successiva e dico, guarda che carini questi pantaloni, cioè, questi mi piacciono proprio, guarda te, ci sono neri, grigi e beige, cioè vuoi che tra neri, grigi e beige non ci sia, non lo so, una 46? Inizio a vedere i neri, ma i neri non ci saranno mai, Alice, non ci saranno mai, infatti, 36, 38, 36, 36, 38, 38, 36, 36, non ci sono i... Vabbè, facciamo una cosa, guardiamo i grigi, va bene lo stesso, 36, 38, 38, 38, 38, 38, 36, 38, 38. Guardiamo i beige, 36, 38, 38, 36, 36, 40? Oh, ma questa è una plus size, eh ragazzi? 36, 38, 36, 36, 40. Niente pantaloni, perché io nella 40 immagino che non salga oltre il ginocchio. Proseguo con la mia ricerca positiva, perché con la positività si arriva in alto, vedo delle bellissime magliette, molto carine, con la zippettina davanti, va bene, guardiamo se c'è la taglia di questo, guardiamo. Small, 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 extra, small, extra, small, 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 extra, small, small. Va bene. Allora amici, e qui non sto scherzando, non sto scherzando, potrei andare avanti con tutti i capi che ho guardato nell'area sconti di Bara, non c'era una large, manco a pagarla... Ah no, se la paghi a prezzo pieno, c'era. C'era perché ovviamente la tua taglia nei saldi non c'è più, però se vuoi, c'è la collezione nuova, trovi quante large vuoi. Ah no, ah no, scusatemi, da Bara c'era una meravigliosa maglia, con le paillettes blu, eh, con un pochino di risvolto sulla manica, che sicuramente a mia nonna non sarebbe piaciuta. No, non sarebbe piaciuta perché lei mi avrebbe detto che era un po' vecchio. Ma va bene così, usciamo da Bara e andiamo da Tango, perché anche Tango potrebbe avere delle cose interessanti. Ragazzi, stessa identica roba. Stessa identica roba. Voi non potete capire la mia rabbia. Io sono assolutamente pro salute, ma non mi ritengo una ragazza che non è in salute in questo momento. Io non sono sovrappeso, secondo il mio nutrizionista sono tranquillamente enormo peso e che ci devo fare? Ho preso da mi padre, non ho preso da mi mamma e non è che me posso tosare le ossa. Perciò io trovo molto, molto scorretto il fatto di far sentire male una persona che magari non ha la classica taglia da modella di hot culture, siamo d'accordo, perché io non ho la classica taglia da modella, ma io ho fatto una domanda ai miei follower su Instagram e mi sono arrivati una marea di messaggi e di esperienze di persone che all'interno dei negozi si sono sentite morire. Persone che vanno a chiedere alle commesse scusa magari hai una 48 di questi pantaloni? No, noi quelle taglie lì non le teniamo. Noi quelle taglie lì? Cioè nel 2019 veramente una 48 è un quelle taglie lì? Senza considerare che io ve lo dico, in tanti pantaloni a me è toccato prendere la 48 anche soltanto per la lunghezza. Non potete davvero comprendere se non siete alti la rabbia e la frustrazione di provare un paio di jeans che sono perfetti in tutto e per tutto e che manca un pezzo così dalla caviglia. Effetto proprio d'acqua in casa in tre per due. La mia riflessione è questa, no? Care aziende di vestiario, se vi rendete conto che in alcune zone d'Italia, perché non è in tutte così, ho sentito di ragazze sarde che mi hanno raccontato che in Sardegna non hanno SXS, hanno soltanto L extra large. Quindi direi, amiche sarde, ci mandate due taglie larghe e noi vi mandiamo due SXS che almeno ce le togliamo un po' da cogli... Sto davvero cercando di buttarla sul ridere, ragazzi, perché, cioè, non si può piange, quindi si cerca di ridere. Ma che cosa ci vorrebbe nel fare un sondaggio, nel capire i fatturati di vendita sulle taglie, il cercare di capire una città che cosa richiede? Perché se la Sardegna richiede delle taglie più piccole e la Lombardia, ad esempio, richiede una maggioranza di taglie più grandi, perché non aumentare quelle taglie lì? E se nei saldi rimangono sempre la small e l'extra small, io un paio di domande me le farei. E questo non riguarda soltanto Barra e Tango, vi potrei fare un esempio di altri sette negozi dove sono stata due giorni fa e la situazione era esattamente la stessa. Non parliamo poi del negozio limpidissimi, perché in limpidissimi mi veniva veramente da spaccare qualsiasi cosa. Allora, troviamo l'angolo, anzi no, non era un angolo, era proprio un segmento, un segmento delle grucce dove ci sono i saldi sui reggiseni e sulle mutande limpidissimi. Allora, reggiseni divisi per taglia, prima, seconda, terza, quarta. Se voi avete più di una quarta, ma non siete umani, lo capite che non siete umani, cioè lo capite che non mi interessa, cioè non ce ne frega niente, capite? Ok. L'importante è che passi il concetto. Se ci avete più di una quarta, andate in giro senza reggiseno. Questa è la regola, limpidissimi ci impone questo, quindi mi appropinco a guardare le quarte. Guardo modello per modello e cosa ti ritrovi davanti? 350 push up? Ora, limpidissimi, no? Io non mi voglio mettere a fare il vostro lavoro, ci mancherebbe altro, ognuno faccia il suo, però mi viene da dire, no? Ma una ragazza che ha una quarta di seno, secondo voi, no? Ma così, giusto? ha bisogno del push up? Per mia esperienza personale, poi magari voi mi potrete dire che non è così, se io mi metto il push up, mi ritrovo le tette qui e escono tutte nel centro. Vanno a fare una bailada per le strade qua. Quindi vi ringrazio di avermi messo in saldo gli 800 push up taglia quarta che non venderete mai, perché nessuna taglia quarta vorrebbe un push up. Attenzione, non è finito, troviamo i meravigliosi reggiseni senza ferretto, senza niente, reggiseni di carta velina, come li vogliamo chiamare, quelli con degli animaletti, dei bicchieri, degli unicorni cuciti sul capezzolo. Ma certo, ma certo, una taglia quarta. Sicuramente li indosserà facilmente e avrà tutto il sostegno che le serve. Ma si chiama reggiseno, ma chi se ne frega se non regge nulla. Infine, ma non per importanza, abbiamo i paracaduti, che hanno un'estetica terribile. Di solito, mia nonna li indossava, me lo ricordo che li indossava, e ti ci puoi tranquillamente buttare dal terrazzo perché ti pigliano l'aria e ti salvano e ti fanno, ecco, arrivare a terra sana e salva. C'è il modello meraviglioso, quello che va tantissimo con la fascia sotto il seno e i triangoli che vanno dietro, bellissimo, che sembra una camicia di forza, io non so se l'avete visto, io uno ce l'ho e uno rimarrà perché praticamente dietro per agganciarlo ci sono all'incirca 35 gancini. Quindi, se lo volete mettere per una serata, se vi mettete a luna di pomeriggio ad agganciarvi al reggiseno, forse per le sette siete pronti per uscire. C'erano anche quelli, c'erano anche quelli se vi interessa. Poi non so voi, ma a me sembra che durante i saldi entri nei negozi e questi negozi si trasformano in mercatini dell'usato. Sia per la quantità di gente che è riversata sui pochi tavoli con la roba in offerta, sia per le gomitate che ricevi da parte delle ragazze infoiate che devono prendere per forza quella large, ma perché c'ha ragione, è l'unica large che c'è in tutto il negozio. Sia per la roba che viene tirata fuori da questi magazzini che voi commessi mi dovete veramente dire ma da dove la tirate fuori? Perché veramente certa roba non si può vedere. Alcuni commessi mi fanno morire da ridere, mi fanno veramente morire da ridere perché ti spacciano, no, le cose come dei modelli fatti in questa maniera. Ad esempio, c'era una ragazza che ha trovato un paio di jeans e ovviamente era una XS cioè credo che trova i jeans. Erano strappatini in un punto. Arriva dalla commessa e dice scusami, questi sono strappati, ci sono altri 38 a parte la classica frase no, la roba è in saldo è tutta mori. Le fa. No, no, ma comunque il modello è fatto così. La ragazza la guarda e fa ci sono altri 8 pantaloni taglia S dello stesso modello che non sono strappati quindi il modello non penso sia così. Ah, mi devo essere confusa con un altro con un altro pantaloni. detto questo eh, aziende facciamo una bella cosa cerchiamo di aprire un po' di più la mentalità sia per quanto riguarda magari le taglie piccole in determinate regioni dove magari le ragazze fisicamente sono più piccole e magari in altre regioni magari fisicamente sono un po' più grandi e non vuol dire che in una regione sono anoressiche e nell'altra sono obese sono fisicità diverse possiamo provare a non far sentire nessuno sbagliata a non far sentire nessuno fuori dai canoni estetici di un paese e non ci vuole molto basterebbe aggiungere qualche capo di quella determinata taglia che è evidente in quella determinata città va molto di più rispetto alle altre concludo questo video dicendovi che soltanto una cosa ho comprato con i saldi l'altro giorno ovvero un paio di stivaletti paio di stivaletti taglia 38 perché soltanto ai piedi potrò indossare una taglia 38 per tutta la vita detto questo vi esorto a lasciarmi un commento qua sotto nel caso abbiate delle esperienze da condividere qualsiasi cosa riguardo ai saldi alle taglie e ai negozi d'abbigliamento perché penso che questo argomento non si chiuderà qui ma avete fatto in c***a non mi in c***a e non mi in c***a in un video solo vi mando un grande grande bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video ciao a tutti non a bara a tango e a tutti i negozi d'abbigliamento che non tengono le taglie ciao a voi a loro no ciao ciao a tutti i